e nel turno di qualificazione di questa mattina di essere assolutamente in gara per fare qualche cosa di vicino agli 8 metri dunque ancora è lunga attenzione a questo salto di Tremigliozzi, questo è un salto Stefano, 8 metri forse vediamo un po' attenzione a questo salto di Tremigliozzi che si avvicina agli 8 metri è la gara del lungo che entra decisamente nel vivo 7,95 per Tremigliozzi che rimane alle spalle di Emanuele Catania per quanto riguarda le liste di sempre Tremigliozzi aveva 7,90 dunque si migliora di 5 centimetri bellissimo salto, 7,86 aveva quest'anno, 7,95 questa è una bella asse di battuta, noi dobbiamo evitare di fare commenti perché questa posizione diagonale rispetto alla... beh avevi detto